Solidarietà è l'ultima della serie perché la solidarietà non costa nulla, è facile darla, è ovvio che è scontato darla in queste situazioni, mentre l'incontro di oggi vuole essere proprio la ricerca di una soluzione propositiva alla politica, in particolare al governo, in particolare al nuovo ministro della giustizia. L'incontro fatto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, altre rappresentanze dell'avvocatura associativa e i capi giudiziari è stata molto utile perché abbiamo individuato quella che può essere la proposta, che faremo immediatamente nel giro di poche ore al ministro con la fede, ovvero una decretazione d'urgenza con la nomina di un commissario con poteri ovviamente ritagliati sull'esigenza del recupero immediato di una soluzione transitoria che deve essere in Bari. Pare che vi sia anche la possibilità di individuare questi immobili da quello che mi è stato riferito in Bari e quindi i poteri straordinari potrebbero permettere di adeguare immediatamente questi eventuali locali immobili e partire verso invece la soluzione definitiva. L'occasione può essere anche oggetto anche questo di al decreto urgente dei poteri del commissario, poi se l'occasione per dare una spinta importante alla costruzione di questa cittadella giudiziaria che sappiamo essere già in stato di progetto.